buongiorno a tutti benvenuti su scudere oggi vi parlo di questo interessante appartamento sito al sesto di avanti nella zona dell'imbocco dell'autostrada però in zona veramente interessante perché comoda a tutti i servizi e l'appartamento soprattutto è veramente molto grande un appartamento di soggiorno cucina due camere bagno e un ampio terrazzo stiamo adesso visionando il soggiorno l'appartamento in condizioni originali con del marmo è stato ristrutturato il bagno e adesso andiamo a visionare questo terrazzo veramente piacevole perché è possibile fare come vedete anche dal tavolo delle cene con gli amici e soprattutto è anche molto comodo anche per i più piccoli se uno dei bambini insomma è sicuramente interessante ecco questo invece il bagno è stato ristrutturato un po' di anni fa però è completo vi ricordo che siamo in una zona decisamente comoda è zona via sara e vicino all'autostrada questa è una delle camere da letto vi ricordo che sono due camere da letto soggiorno cucina e bagno con due balconi e terrazzo ecco questo è uno dei balconi dimenticavo che c'è anche il ripostiglio che per le signore è veramente importante le camere da letto sono entrambi camere veramente grandi questa è la più piccola in realtà e qua abbiamo il ripostiglio la cucina abitabile l'appartamento ripeto in condizioni originali è del marmo ma poi ci sono sicuramente da valutare come seconda casa lavori non ce ne sono è subito facilmente vivibile anche come prima casa però se uno vuole fare dei lavori sicuramente si presta anche delle modifiche interessanti per esempio è possibile anche avere tre camere soggiorno e cucina la parte del soggiorno fare solo un soggiorno cucina e questa cucina diventerebbe la terza camera da letto questo perché il bagno è comunicante col soggiorno quindi avremo già gli scarichi per poter fare la cucina in soggiorno questa invece è la seconda camera da letto veramente molto ampia e terminiamo nel secondo balcone con questo noi abbiamo terminato io vi ringrazio di aver visto questo video con Scudray e alla prossima